Aaaaaaah! Casi che stai mi prendendo? Io parto con la B B di... Ma no... Mini B Ho paura Aaaaaaah! Allora... Ok, ehm... Ah, sono da appendere con... ...un qualche filo che non abbiamo Dobbiamo riuscire qua No, quello è per appendere Questo è per... Aaaaaaah! Ah no, no, è giusto, hai ridotto l'acqua E tu? Non so che sanno! Sì Sai che secondo me si confiano solo col compressore? Are you kidding me? No, mi c'è scritto con canuccia No, no, è che epic fail Aspetta Allora... Mi sento molto ignorante in questo momento ma... Come gonfiare... No! Gonfiare... Le intere palloncini No, no, ne che ne può È chiuso, è chiuso tipo qua Oh si è ero... Oh my god Video dimostrativo dell'uso del prodotto Ehm... Sì 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 Grazie Grazie abbiamo capito Sì 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 Sì